Un saluto all'Italian Football Club È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi eppure Tania Cagnotto non è nata in un posto di mare anzi dalle sue parti a Bolzano per raggiungere il mare bisogna farne di chilometri Io ho iniziato a 6-7 anni tramite i miei genitori Parte dalle piscine del Trentino il cammino che la porterà a conquistare il maggior numero di podi a livello continentale La passione sicuramente aiuta e poi il fatto di non arrendersi mai è molto importante e avere anche le persone giuste attorno a te Mondiali ed europei diventano casa di Tania Cagnotto La medaglia olimpica però riesce solo a sfiorarla Ogni olimpiade è diversa da ognuna è un'emozione unica che penso che ti porterà dietro per tutta la vita Il momento più difficile? Londra 2012 Quarto posto alle olimpiadi di Londra Il momento più bello invece? Sicuramente l'anno scorso che ho vinto i mondiali da un metro a Kazan Ai mondiali di nuoto del 2015 in Russia Tania è la prima italiana nella storia a vincere il titolo iridato Il gusto dello sport Quando posso mi piace fare la pizza in casa Mio papà fa bene la tartare Mia mamma forse è un pasticcio buono I vini mi piacciono molto, i rossi Bella Grind visto che io arrivo da Bolzano È uno dei miei preferiti La seconda Grazie.